Mettiamola così, in latino si direbbe omen nomen. Quando abbiamo cominciato a pensare a questo progetto e a questo prodotto, in realtà forse è nato prima il nome. C'eravamo immaginati un muro e c'eravamo immaginati una specie di muro morbido che stesse in mezzo alle stanze e che in qualche maniera interferisse con uno spazio e un muro morbido in mezzo. Perché si sia chiamato Wall o perché sia diventato Wall credo che sia insito nella sua natura, è nato così e non poteva che chiamarsi così, un muro morbido abbastanza presente, non eccessivamente invasivo, un po' come quasi una specie di archeologia, ma nello stesso tempo molto puro, molto netto e all'inizio discretamente rigido. Poi cammin facendo l'abbiamo fatto diventare una cosa un pochino più interessante, però Wall, non poteva che chiamarsi così. Quando progetti un prodotto per living, divani, in realtà tutta una serie di matrici o di linguaggi tecnologici o di soluzioni produttive o di scelte di materiali, che sono, non dico che appartengano o facciano in realtà parte del DNA dell'azienda e parzialmente fanno parte del DNA del progetto. Quando è nato Wall doveva essere un muro morbido e quindi il vero progetto è stato lì, cercare dei materiali che mi permettessero di disegnare un muro morbido, che non concedessero nulla all'immaginazione di quello che in realtà dovevo fare né quello che si sarebbe poi potuto vedere, tenerlo bassissimo, rispetto ai miei standard farlo un pochino più comodo e qui senza living in divani non saremmo venuti fuori vivi. Quindi il progetto nasce in realtà perché è un prodotto ed è un processo che può nascere solo qua. I materiali sono stati di volta in volta inventati, le densità, i cambiamenti, la presenza non poteva che nascere qua. Intanto se un progetto nasce per living divani è un progetto per living divani. Wall si è discostato da quello che magari c'era o magari si è discostato semplicemente perché non c'era. è partito con la matrice dell'architettura. Non voleva essere un divano, non voleva essere un sistema, ma voleva essere un gesto quasi architettonico, morbido all'interno di spazi. Partendo da questo presupposto uno spazio non diventa tale semplicemente perché è molto abitato, meno abitato, più pubblico, privato, ma una volta che intervengo sullo spazio intervengo con la misura degli esseri umani. Wall è nato con questa caratteristica. La misura degli esseri umani è un pochino più basso rispetto alla norma, è un muro che quasi sparisce all'interno degli spazi e sta benissimo in mondi differenti. Sta benissimo all'interno di un mondo assolutamente privato e sta altrettanto bene all'interno di un mondo completamente pubblico, che so, la hall di un albergo, uno spazio dove la gente lavora, un ristorante, perché no? Ecco, quando nascono questi progetti e quando si costruiscono questi progetti non necessariamente poi prendono una direzione univoca, ma normalmente parlano tanti linguaggi differenti. Più o meno credo che ci siano riusciti. Mettiamola così, dal 2000 al 2020 sono stati vent'anni vissuti pericolosamente, sono stati vent'anni, io credo anche abbastanza creativi, ma molto pericolosi. Quando disegni un divano come questo devi mettere in combinazione, quasi in combutta, quasi in contrasto questi due mondi. Da una parte la pericolosità del progetto è qui da vedere e dall'altra parte ci devi anche mettere un bricio di creatività. Anche se non sembra, c'è. Riuscire a raffreddare il disegno, riuscire a portarlo al niente, insomma non è facilissimo. Tornando indietro di un passo sono serviti vent'anni, dal 2000 al 2020, per riuscire a vivere molto pericolosamente anche a questo progetto.